Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura alla cronaca giudiziaria. Torniamo sulla inchiesta che riguarda la tragedia di Rigopiano perché questa mattina sono stati notificati 23 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati per quanto riguarda il crollo dell'hotel di Rigopiano di Farindola avvenuto lo scorso 18 gennaio sotto il quale sono morte 29 persone. Tra gli indagati e tra coloro che hanno ricevuto l'avviso di garanzia figura anche l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo assieme ad altri due funzionari della prefettura per i ritardi nei soccorsi. Così scrivono i magistrati. Provolo che sarà interrogato a Pescara il prossimo 11 di dicembre. Prima di andare ad ascoltare il servizio realizzato da Paolo Renzetti vi leggiamo anche un commento che è appena stato battuto dall'agenzia AGI del papà di una delle vittime. Dopo tutti questi mesi finalmente la procura di Pescara ha individuato i responsabili della morte di Stefano e di altre 28 persone. Così scrive sul suo profilo Facebook Alessio Feniello, il papà di Stefano che è appunto una delle vittime dell'hotel Rigopiano. Allora andiamo ad ascoltare tutti i dettagli di questa mattinata nel servizio come detto realizzato da Paolo Renzetti. Svolta nell'inchiesta sulla tragedia di Rigopiano di Farindola sono stati infatti notificati questa mattina da parte della procura di Pescara presso la sede della prefettura della provincia di Pescara e del comune di Rigopiano 23 avvisi di garanzia per la vicenda dell'hotel travolto da una valanga il 18 gennaio scorso e che provocò 29 morti e diversi feriti. Fra i nuovi indagati c'è anche l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo da una settimana trasferito a Roma dove andrà a svolgere le funzioni di direttore dell'ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Tra gli indagati ci sono il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e numerosi dirigenti pubblici. Tra i reati ipotizzati dalla procura della Repubblica di Pescara guidata da Massimiliano Serpi e dal sostituto procuratore Andrea Papalia ci sono a vario titolo quelli di omicidio e lesioni plurime e colpose, falso e abuso edilizio. Secondo quanto scritto all'interno dell'avviso di garanzia, la morte delle 29 persone fu causata da asfissia, ostruzione delle vie respiratorie, compressioni del torace, violenti traumi contusivi e da schiacciamento a seguito del crollo della struttura, crash syndrome con partecipazione di un progressivo quadro asfittico, emorragie traumatiche, asfissie da valanga in presenza di basse temperature. Gli altri indagati sono Bruno Di Tommaso, Paolo Dincecco, Mauro Di Blasio, Enrico Colangeli, Pierluigi Caputi, Carlo Giovani, Vittorio Di Biase, Emidio Primavera, Sabatino Belmaggio, Andrea Marrone, Luciano Sbaraglia, Marco Del Rosso, Massimiliano Giancaterino, Antonio De Vico, Antonio Sorgi, Giuseppe Gatto, Giulio Onorati, Tino Chiappino, Leonardo Bianco, Ida De Cesaris. Restiamo alla cronaca e parliamo adesso della morte sul campo di Pineto di Marco Calabretta, il bambino di 9 anni, deceduto il 25 settembre del 2015 per una fibrillazione ventricolare provocata secondo l'autopsia da una malformazione congenita, una morte per la quale si trova attualmente a processo con rito abbreviato un medico del 118 con il GUP Domenico Canosa che nell'udienza di questa mattina disposto per il 14 dicembre l'audizione di tutto l'equipaggio della prima ambulanza che arrivò sul campo di Pineto. Una decisione assunta dopo che nella scorsa udienza un infermiere che si trovava sulla prima ambulanza, citato come testa e proprio dall'imputato, aveva dichiarato come il defibrillatore, un semiautomatico presente sul mezzo mobile, fosse stato usato nell'immediatezza dei fatti. Proseguiamo con il nostro giornale e continuiamo con la cronaca. I finanziari dell'Aquila hanno arrestato il responsabile di un ufficio tecnico di un comune dell'Aquilano per concussione. Avrebbe chiesto 2.000 euro ad un privato per una variazione edilizia che tra l'altro si poteva fare per legge. L'uomo ora è ai domiciliari, si scava nelle carte del comune e nel pc del responsabile. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. I finanziari del comando provinciale dell'Aquila hanno arrestato oggi ai domiciliari il responsabile dell'ufficio tecnico di un comune dell'Aquilano. L'ordinanza rappresenta soltanto l'epilogo di lunghe ed articolate indagini di polizia giudiziaria delegate alla Compagnia dell'Aquila della Guardia di Finanza dalla Procura della Repubblica. Si parla dell'ITAR di concessione di una variante edilizia a valere su un aggregato strutturale ubicato in un comune dell'Aquilano, interessato ovviamente da lavori di ricostruzione post-sisma. Le investigazioni hanno consentito di accertare che il tecnico comunale infedele, così è stato definito, nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale e di responsabile del procedimento di definizione della pratica oggetto di indagine, aveva indotto il privato committente a versare in suo favore la somma di 2.000 euro, quale condizione essenziale per definire poi l'ITAR inerente questa variazione edilizia proposta, rientrante, tra le altre cose, nei piani requisiti di legge. Al soggetto sottoposto a misura cautelare è stato contestato il reato di concussione per ora. Le perquisizioni informatiche locali eseguite poi presso il comune e presso l'abitazione del pubblico funzionario si sono concluse con il sequestro di un computer e di documentazione pertinente necessaria a far proseguire le indagini. Lasciamo la pagina di cronaca, ora la politica, ci spostiamo al comune di Teramo. Ancora un colpo di scena l'intricata vicenda sulla sfiducia al sindaco Maurizio Brucchi da parte della minoranza e della maggioranza dissidente. Non tutti si presentano davanti al notaio per firmare contro il primo cittadino e così il sindaco convoca a sorpresa per lunedì prossimo un consiglio comunale straordinario e annuncia un lungo discorso ai Teramani il servizio di Tania Bonnici Castelli. Brucchi prende tutti i contropiede e annuncia ora in consiglio vi ci porto io. Una lettera stringata quella scritta dal primo cittadino di Teramo intorno al quale si sta ballando una danza funebre da parte di minoranze e maggioranze dissidenti. Non tutti i suoi nemici però sono stati d'accordo a firmare la sfiducia davanti al notaio come proposto dal consigliere Gianluca Pomante e proprio nelle maglie larghe di una mancata compattezza che Brucchi si è inserito convocando un consiglio comunale straordinario fissato per lunedì prossimo alle ore 16. Scrive il sindaco in considerazione degli ultimi accadimenti e dei ripetuti tentativi di delegittimare questa amministrazione dal mandato conferito dei cittadini all'esito delle elezioni ritengo che debba essere io a portare la discussione sulla situazione politica in consiglio comunale. In tale sede istituzionale continua Brucchi ho iniziato la mia bellissima e straordinaria avventura da sindaco ed è nella stessa sede che evidentemente essa deve concludersi. I tatticismi non mi interessano conclude il primo cittadino di Teramo io il coraggio di confrontarmi ce l'ho altri lo devono ancora dimostrare. Non si fa attendere alla replica del consigliere Pomante che accusa il partito democratico di non aver voluto firmare la sfiducia e annuncia fuoco e fiamme in consiglio comunale contro tutto e tutti. Un appuntamento quello di lunedì prossimo che probabilmente segnerà la fine dell'era Brucchi il quale però venderà cara la pelle e già si parla di un suo lungo discorso che lui stesso dedicherà ai cittadini terramani. Un addio ma anche un atto di pesante accusa con nomi e cognomi di quelli che a suo dire hanno decretato la sua fine politica come sindaco della città. Torniamo nell'Aquilano in particolare nel capoluogo il sindaco Pierluigi Biondi con una ordinanza urgente ha chiuso due scuole a Preturo ed Arischia poiché risultate con un indice di vulnerabilità sismica pari a zero. Studenti ricollocati già da oggi nei MUSP di Sassa e di Arischia un provvedimento annunciato ieri sera in una conferenza stampa convocata in maniera urgente. Vediamo insieme il servizio. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha tenuto ieri sera una conferenza stampa urgente convocata all'ultimo minuto nella serie dell'assessorato alle opere pubbliche in via Ulisse-Nurzia. Nel corso dell'incontro ha annunciato la necessità di dover chiudere due scuole ad Arischia la scuola dell'infanzia e a Preturo la scuola primaria. I motivi sono legati all'indice di vulnerabilità. Gli studenti saranno ricollocati nei MUSP di Sassa e Arischia già da questa mattina pronti per l'accoglienza. Complessivamente sono interessati una cinquantina di alunni. Contestualmente è stata attivata anche la società di trasporto scolastico per qualsiasi necessità, così come quella che opera per la refezione. Due ordinanze dunque per l'inutilizzo temporaneo di altrettanti plessi scolastici. I risultati ottenuti per gli altri plessi indagati invece evidenziano un'adeguatezza delle strutture per l'uso ordinario. In pratica, per quanto riguarda le verifiche di vulnerabilità sulle due scuole chiuse, hanno dato indicatori di rischio pari a zero per il livello di salvaguardia previsto dalle normative di settore. Queste indagini hanno la finalità, ha spiegato Biondi, di consentire all'ente proprietario una corretta programmazione degli interventi di adeguamento alle vigenti normative tecniche sulle costruzioni. Gli altri esiti sono Cansatessa 0.09, che è già chiusa, l'infanzia di Pile, piccola e San Benedetto di Bagno 0,22, infanzia di Paiari di Sassa 0,33, plessi per i quali è confermata l'utilizzabilità, ma che comunque verranno inseriti nella programmazione così come regolamentata dall'allegato 1 della delibera Cipe 48 del 2016. Si ribadisce che le scuole, comprese quelle chiuse in via cautelare, sono risultate tutte agibili in base alle verifiche ordinarie effettuate a seguito degli eventi del 2009 o dei lavori di riparazione post-sisma e successivamente a recenti terremoti del 2016-2017 sono state ulteriormente indagate e hanno soddisfatto i requisiti di fruibilità. Voltiamo pagina adesso, torniamo a Teramo, dove questa mattina Monsignor Michele Seccia ha annunciato il nome del suo successore alla guida pastorale della diocesi di Teramo-Atri. La scelta di Papa Francesco è caduta su un altro prelato pugliese, Monsignor Lorenzo Leuzzi, attuale vescovo ausiliario di Roma, a cui questa mattina sono arrivati anche gli auguri di Monsignor Bruno Forte, a capo della CEAM, in una nota scritta a nome dei vescovi d'Abruzzo e Molise, in quanto presidente della conferenza episcopale regionale. Esprimo profonda gratitudine al Santo Padre per aver nominato il nuovo vescovo di Teramo-Atri nella persona di sua eccellenza Monsignor Lorenzo Leuzzi, finora vescovo ausiliare di Roma, che conosco personalmente da anni e stimo per le sue competenze e la sua attività pastorale, soprattutto in ambiente giovanile ed universitario. Questi dunque gli auguri della CEAM di Monsignor Forte e chiaramente c'è anche il ringraziamento per l'opera svolta da Monsignor Michele Seccia. Andiamo a vedere insieme il servizio sull'annuncio del nuovo vescovo di Teramo-Atri. Sua eccellenza Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo ausiliare della diocesi di Roma, nuovo vescovo di Teramo-Atri. E' caduta sul vescovo ausiliario di Roma la scelta di Papa Francesco per la guida della diocesi di Teramo-Atri. Si tratta di Monsignor Lorenzo Leuzzi, nato a Trani il 25 settembre del 1955. Dopo gli studi liceali classici è entrato in seminario e come alunno dello studio teologico di Bari. Ha conseguito il baccellierato in teologia nel 79, completando poi la formazione al sacerdosio al pontificio seminario romano maggiore. Si è laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Bari nel 1980, con specializzazione in medicina legale delle assicurazioni presso l'Università Cattolica di Roma nel 1983. Ha poi conseguito la licenza in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense nel 1983 ed il dottorato in teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana. Due anni dopo è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Roma il 2 giugno del 1984 dal cardinal Ugo Poletti nella cattedrale di Trani. Eletto poi vescovo titolare di Cittanova ed ausiliare di Roma il 31 gennaio del 2012 ha ricevuto la consagrazione episcopale il 14 aprile successivo. Come vescovo ausiliare di Roma è stato delegato per la pastorale universitaria e la cultura e cappellano della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. Questa mattina Monsignor Seccia ha letto il messaggio del neovescovo di Teramo Atri. Vengo tra voi con grande gioia dopo aver servito la Chiesa di Roma fin dall'inizio della mia ordinazione sacerdotale. Non finirò mai di ringraziare il Signore per questi anni di ministero inaspettato, immeritato e sorprendente. La vicinanza del Papa Vescovo di Roma è stata l'esperienza più bella che desidero condividere con voi, apprestandomi a svolgere un nuovo ministero pastorale. Andiamo avanti con il nostro giornale. Inaugurato l'anno accademico del Conservatorio Casella di L'Aquila, una splendida realtà di musica e cultura che ha 50 anni di storia e di vita. Vediamo. Inaugurato l'anno accademico del Conservatorio Casella che a breve potrà avere anche una sede in centro. Nell'auditorium progettato dopo il sisma dall'architetto Shigeru Ban, spazio alla musica con docenti, studenti e istituzioni. Il nostro conservatorio a 50 anni verrebbe da usare una frase fatta ma non li dimostra. Non li dimostra nel senso che è una realtà. Se guardiamo indietro potremmo pensare a tanti conservatori Casella che si sono succeduti in questi 50 anni, che hanno accompagnato le trasformazioni della nostra società e della nostra città. Però il conservatorio oggi è una realtà vitale, lo è stata nei momenti tristi di 9 anni fa. Non abbiamo perso uno studente, il conservatorio continua a crescere e qui a questo punto io ripeto il mio solito mantra che il conservatorio non è solo un posto dove si fa musica, dove si educa, ma è una piccola azienda, una media azienda che porta 150 posti di lavoro sul territorio, che con il suo oltre 50% di studenti fuori sede produce un indotto a un volano che produce un indotto di tutto rilievo. La mia raccomandazione a chi ci amministra, ma anche chi vive questo territorio, perché poi gli amministratori non interpretano e sintetizzano quello che sente il territorio, è quello di essere vicini a questa realtà. In questo momento di trasformazione, in cui si parla di accorpamenti, di riduzione del numero delle sede, di riorganizzazione, è importante che il conservatorio dell'Aquila mantenga alta l'asticella e continui in questo percorso, ma abbiamo bisogno del supporto di tutti. Ricordo che noi siamo in una bellissima realtà. Proseguiamo con la solidarietà, perché sabato 25 novembre torna l'appuntamento con la colletta alimentare, saranno circa 200 in tutto l'Abruzzo i punti vendita in cui acquistare prodotti da destinare al Banco Alimentare e quindi ai poveri. Sentiamo. Anche l'Abruzzo e Pescara parteciperanno alla giornata nazionale della colletta alimentare di sabato 25 novembre, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. Come accade da 21 anni, chi si recherà a fare la spesa nei punti vendita aderenti anche in Abruzzo, circa 200, tra supermercati, centri commerciali e negozi alimentari, sarà invitato dai volontari con la pettorina gialla ad acquistare e donare alimenti per l'infanzia, tonno e scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati e biscotti. Prodotti che nei giorni successivi saranno redistribuiti dal Banco Alimentare dell'Abruzzo ai 40.700 poveri assistiti in regione, mediante una rete di 200 enti convenzionati. Si tratta di donazioni che vanno ad integrare le eccedenze alimentari che durante tutto l'anno il Banco raccoglie, dalla grande distribuzione organizzata dall'industria agroalimentare, dai programmi di sostegno all'indigenza e che poi gira alle persone che ne hanno bisogno. Solamente nel 2016 la sede abruzzese ha distribuito ben 1.627 tonnellate di prodotti, di cui 191 raccolti durante la scorsa colletta alimentare. Ricordiamo questa ventunesima edizione anche con le parole del Santo Padre, Papa Francesco, che ci ha ricordato di non guardare ai poveri come numeri, ma guardarli proprio come persona e ci ha invitato proprio in occasione della giornata della povertà, giornata mondiale della povertà, ad invitare i poveri alle nostre mezze. Noi lo possiamo fare così anche partendo da gesti semplici come quello di sabato prossimo, facendo proprio la spesa per loro. A Pescara nel weekend ci sarà il Black Weekend, tre giorni di sconti nei negozi del Centro Commerciale Naturale. L'iniziativa è curata dall'assessorato al commercio in collaborazione con Confesecenti e Confcommercio. A Pescara nel prossimo weekend ci sarà il Black Weekend 24, 25 e 26 novembre, tre giorni per approfittare di sconti nel Centro Naturale Commerciale della città. Sì, diciamo che è la prima iniziativa del Centro Commerciale Naturale della città, in accordo con i commercianti e tutte le sigle delle associazioni di categoria. Un weekend di sconti che partirà dal 24 e arriverà domenica 26, un'occasione importante per lanciare un evento prima del Natale per far arrivare tante persone in città e rilanciare la funzione commerciale. Siamo contenti perché stiamo allestendo un calendario davvero importante di iniziative e questa sarà la prima iniziativa dedicata esclusivamente al commercio nel primo Centro Commerciale Naturale. Poi faremo altre iniziative anche in altre parti della città, ad esempio il 3 dicembre in via Gabriele D'Annunzio, sempre per rilanciare il commercio. Sessore Cuzzi, si può dire che dalla prossima settimana inizieranno di fatto i grandi appuntamenti, i grandi eventi che poi porteranno al Natale? Sì, davvero un'organizzazione straordinaria con le luci d'artista che illumineranno gran parte della città e avremo questi bus navetta dedicati totalmente allo shopping che corregheranno sia Porta Nuova che il Centro Commerciale Naturale della città, quindi gratuiti per gli utenti e poi avremo tantissime iniziative ogni fine settimana che ci accompagneranno al concerto di Capodanno e poi fino all'Epifania. Adesso la pagina dello sport, iniziamo dal calcio di Serie B e dunque parliamo del Pescara. segno nell'amichevole di ieri pomeriggio disputata ad Ortona contro la locale formazione che milita nei dilettanti. L'attaccante del Pescara Ferdinando Del Sole guarda la trasferta di sabato al picco di La Spezia e confida nella possibilità dei Biancazzurri di agguantare un posto nei play-off al termine di questa stagione. Vediamo insieme le parole di Del Sole. Nando Del Sole, dopo questa amichevole con l'Ortona, si guarda alla gara di sabato in terra Ligure con lo Spezia. È una gara importante perché Pescara vuole dare continuità alla vittoria con la Provercelli. Sì, ogni partita vogliamo dare sempre soddisfazioni alla città per fare bene e per prendere continuità. Qui siamo tutti utili e nessuno è indispensabile. Una volta gioco io, una volta gioco un altro. L'importante è che uno pensa ad allenarsi, migliorare giorno dopo giorno. Sono un ragazzo, ci sta che si sbaglia ma faremo in modo di non ripeterlo. Ti guarda questa gara di sabato ma per te, al di là dell'impegno di settimana dopo settimana, questa stagione è davvero importante. Sei un giocatore della Juventus, sei a Pescara, sei con Zeman, un maestro bravo a lavorare con i giovani. Come ti stai trovando con il tecnico Boemo? Ma è inutile parlare sempre delle solite cose, già l'ho detto. È un sogno di tutti i bambini essere allenati da un allenatore come il mister Zeman. C'ho questa fortuna e voglio sfruttarla nei migliori dei modi. Anche se il mister ha tanta fiducia in me, spero di ripagarla più presto possibile. Una stagione importante a livello personale per il Pescara. Secondo te l'obiettivo dei play-off è un obiettivo tranquillamente raggiungibile quest'anno? Secondo me sì, la squadra è forte, ci vuole solo come avete detto, continuità e secondo me ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Scendiamo di categoria in Serie C. Il Teramo è stato eliminato dalla Coppa Italia nella gara dei sedicesimi di finale contro la Viterbese. Sono serviti i calci di rigore per decidere la partita e decretare dunque la formazione qualificata agli ottavi. Fatali per la squadra di Asta. Gli errori dal dischetto di Varas, Pietrantonio e Fagioli. La Ziali vincono per 3-2. Il servizio è di Jacopo Forcella. Niente ottavi di finale di Coppa Italia per il Teramo che deve arrendersi ai calci di rigore al cospetto della Viterbese. Buona gara per i rincalzi della formazione bianco-rossa. Primo tempo ha giocato su ottimi ritmi con i fraseggi che hanno visto sumare il protagonista a destra. E bacio Terracino e Pietrantonio dalla parte opposta. Poco assistiti però da Barbuti che si danno l'anima come al solito, ma non riesce ad essere incisivo sotto porta quanto vorrebbe. E così dopo una prima frazione nella quale il Teramo ha il controllo territoriale del match, con Mirillo a giganteggiare nella zona centrale di difesa nella ripresa alla Viterbese modificata per 7 undicesime rispetto alla gara con l'Alessandria a sale di tono. Bacio Terracino scompare di fatto dalla gara. Barbuti inizia a fare più fatica e Lewandowski è costretto a qualche intervento in più per mantenere il risultato di parità. Che non si schioda. Nemmeno durante i tempi supplementari, nonostante Baldassin, appena entrato al posto di Zenuni abbia due clamorose opportunità di sbloccare il risultato. Il centrocampista manca di precisione e anche di fortuna. Quello che manca a un Teramo, che piano piano ritrova ritmo invece, è il fisco dell'arbitro al minuto 108. Per l'evidente fallo di mano di Celliento sulla conclusione a botta sicura di Sumanè, che a dire il vero però potrebbe calciare il pallone decisamente meglio. Il tocco del difensore che smorza la sfera è netto. Per Di Cairano non ci sono gli estremi del penalty e allora la qualificazione si gioca proprio dal dischetto. Nella vita erbese sbagliano Tortori, cheppure era stato uno dei più positivi, Essini. Al diavolo però sono fatali gli errori di Varas, entrato nella ripresa al posto di Mancini, Pietrantonio e Fagioli, che aveva rilevato Barbuti. Agli ottavi dunque va la vita erbese, che affronterà la vincente di Livorno. Arezzo in programma mercoledì prossimo. Per il Teramo invece ricomincia da oggi il lavoro, in vista del posticipo di lunedì sera al Bonolis, quando arriverà la San Benedettese. Cambiamo disciplina, adesso il calcio a 5. Il Pescara perde la gara d'esordio contro l'Economac per 3 a 5. La squadra di Patriarca dovrà fare a meno anche di Morgado, che si è fatto male proprio nel match di ieri sera. Il servizio di Vestina News. Torna a Pescara dopo due anni di assenza l'elite round di UEFA Futsal Cup. L'ultima volta nel 2015 la squadra del presidente Jan Nascoli riuscì a superare il turno e qualificarsi per la final four vinta poi dalla squadra rossa dello Young Rost. Questa volta sulla panchina del Pescara c'è Mario Patriarca, tornato nel club patriatico da poche settimane dopo le dimissioni di Fulvio Colini, che aveva ciuffato la qualificazione a questa competizione solo nell'ultima gara contro la Dinamo Mosca. Primo avversario del Pescara è la squadra serba dell'Economac, vera succursale della nazionale serba. Al sesto Patriarca perde Morgado da valutare l'entità del danno, ma l'infortunio al ginocchio appare molto serio. All'ottavo vantaggio del Pescara con Borruto, che si smarca in modo facile al centro dell'aria e deposita in rete una rimessa laterale di Ercolessi. Al dodicesimo minuto meriterebbe miglior sorte il tiro di Maxi Rescia, che scarica al volo di sinistro una bella imbucata alta di Cuzzolino, ma la palla si stampa sul palo. Al diciassettesimo raddoppio del Pescara ancora con Borruto, che recupera la parla nella sua metà campo e con un contropiede fulminio supera l'estremo serbo. Al diciottesimo accorcia l'Economac, azione con il portiere di movimento, che libera al tiro il capitano Renic, che complice un intervento non troppo perfetto di Pietrangelo accorcia le distanze. Ultimi secondi di primo tempo infuocati, il Pescara non riesce a tenere lontana la palla dalla propria area di rigore e così ci vuole un vero e proprio miracolo di Pietrangelo su Saiotti a dire di no al pareggio della squadra di Raicic. Avvio super per il Pescara, passano solo 15 secondi e Saad cala il 3. Borruto sfida sulla banda laterale, un difensore serbo lo supera e calce in porta, respende del portiere e per Saad è gioco facile appoggiare in rete da due passi. Ormai come dalla fine del primo tempo, gli attacchi degli ospiti avvengono solo con il portiere di movimento. All'undicesimo l'ex Luparenza e Saiotti ad accorciare riceve palla sulla banda di sinistra, si accentra e con il destro batte Pietrangelo. Blackout Pescara e così al quattordicesimo arriva il pareggio serbo con Borisov, lesto a ricevere una palla che attraversa tutta l'area di rigore e impattare la gara sul tre pari. Ribalta tutto il sedicesimo l'Economac, ripartenza veloce dei serbi, che approfittano di una superiorità numerica e con Rajcevic portano a quattro le proprie marcature. Adesso il Pescara ad attaccare con il portiere di movimento, ma il giro palla risulta molto confuso e così al diciottesimo sono ancora i serbi ad andare in gol. In decisione del portiere Biancazzurro, Pietrangelo e da due passi Igor non può sbagliare. Per la squadra del presidente Giannascoli era fondamentale partire col piede giusto, ora la strada per la final four si fa veramente più dura. Proseguiamo con la pagina di sport, cambiamo ancora una volta disciplina con l'atletica perché si è svolta domenica scorsa la mezza maratona di Montesilvano con le vittorie che sono andate ad Alberico di Cecco e Gloria Cicotelli. Con il sindaco Francesco Maragno è stata anche l'occasione per parlare dell'importanza di eventi come quello della mezza maratona per attrarre turismo in città. Il servizio di Paolo Sinibaldi. Sindaco, come dicevamo anche in conferenza stampa e in altre sedi, questa è una mezza maratona che in una città in grande crescita come Montesilvano ci deve essere assolutamente. Condivido queste impostazioni anche perché noi stiamo facendo di tutto e di più affinché Montesilvano possa essere sede di manifestazioni sportive a livello locale, nazionale e internazionale. Notizia proprio di qualche giorno fa che siamo riusciti a ottenere i mondiali di pallamano in spiaggia e questo sta a contraddistinguere il nostro territorio, le nostre strutture come idonee all'organizzazione di manifestazioni sportive di ampio respiro. La mezza maratona di Montesilvano è diventata un appuntamento fisso delle iniziative sportive del territorio e ogni anno implementa il numero di partecipanti, quest'anno siamo arrivati al numero di 700 e sono convinto che il prossimo anno riusciremo a raggiungere obiettivi ancora più importanti e il merito va ovviamente a tutte quelle persone che si impegnano quotidianamente tutto l'anno affinché questa possa essere davvero una manifestazione desiderata da tutti gli appassionati della mezza maratona. Montesilvano è conosciuto ovviamente per la sua spiaggia e lungomare le zone pianeggianti, però anche in questo caso gli organizzatori hanno inteso far conoscere ai partecipanti alla mezza maratona anche le zone collinari da cui si vede un panorama eccezionale. Questo è quello che viene denominato turismo sportivo, è il turismo che grazie allo sport viene portato in ogni casa, viene portato in ogni luogo. Montesilvano è fatto anche di storia, non è fatto soltanto di mare e di spiaggia e la mezza maratona come giustamente stava evidenziando che questo va a garantire proprio questi panorami mozzapiato e sta a rappresentare davvero un rilancio per tutto quanto il territorio. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo i nostri servizi sono disponibili sul sito internet www.tv6.it e sulla nostra pagina YouTube. Grazie ancora e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.